Intanto è una drammatica tombola questa dei numeri e pensare che questo paese sta chiedendo a milioni di italiani sacrifici incredibili, semafori, colorazioni, chiusure in casa, chiusure di aziende, chiusure di ristoranti, di bar, pensare che i numeri non siano scientifici sempre nella sanità e che non ci sia un organismo che li certifica una volta per tutte. Lo fanno i giornali, l'hai fatto tu con la risposta che hai dato, ma lo deve fare lo Stato, perché altrimenti noi processiamo il paese anziché processare lo Stato. E' chiaro che questa emergenza ha mostrato dell'Italia il coraggio dei medici, la lotta degli infermieri, il coraggio di tante famiglie, ma ha mostrato anche i risultati di 20-30 anni di tangenti, di concorsopoli, di nepotismo, di nicchie che nella sanità normale venivano nascoste e che oggi diventano gigantesche. Quindi De Luca deve fare i nomi semplicemente. Se tu dici che ci sono dei medici in campagna e li conosci, dici che ospedale sono, li chiami, li convoghi, fai una commissione e poi eventualmente vai in procura. Non è necessario andare subito in procura, ma certamente non puoi attaccare i medici che lavorano perché i medici che tu conosci non lo fanno. E se non lo facevano, anche prima c'è qualcosa che non torna, perché questo paese fa dei bollettini ogni giorno che costringono milioni di persone a perdere patrimoni personali, familiari e persone care. Quindi se anche un numero non torna, ci viene il dubbio che non tornino nemmeno gli altri. E questo mette a repentaglio la pace sociale. Moretti